E' emergenza posti letto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I corridoi, le corsie e persino i ballatoi delle scale sono invasi dalle barelle e dalle relative attrezzature. Una cinquantina i pazienti sistemati sulle lettighe. Le situazioni più critiche si registrano proprio al pronto soccorso e nei reparti di medicina, geriatria e oncologia. Indignati, i parenti dei degenti hanno denunciato il fatto e ieri mattina si sono recate sul posto le forze dell'ordine che hanno aperto un fascicolo d'indagine e hanno coinvolto anche gli agenti del NAS per monitorare costantemente l'evolversi della vicenda. Immediata la polemica tra il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che si dice preoccupato per la salute dei propri concittadini ricoverati e il direttore generale dell'ASL Napoli Due Nord Giuseppe Ferraro che garantisce trasparenza nella gestione della situazione. Per quanto riguarda le barelle, da un po' di tempo, da qualche anno i nostri operatori sanno che devono informare i pazienti, quelli che accedono al pronto soccorso sull'inesistenza delle barelle e sulla possibilità che conferiamo loro di trasferirli in un altro ospedale dove c'è disponibilità di posti letti. Evidentemente i pazienti pur di stare in quell'ospedale che sarà vicino casa preferiscono stare sulla barella. Quindi noi su questi temi abbiamo un consenso informato del paziente che si è rifiutato di andare in un altro ospedale. Alle accuse del primo cittadino che punta il dito contro i ritardi da parte del distretto sanitario nell'avviare i lavori di ampliamento degli spazi per i quali il Comune ha già concesso due proroghe negli ultimi anni, secca è la risposta di Ferraro. Circa poi la precarietà delle attività del pronto soccorso per i famosi disagi logistici noi in settimana, tra dieci giorni, noi appaltiamo i lavori di ristrutturazione di questo pronto soccorso probabilmente per effetto di questo appalto soffriremo 7-8 mesi di disagio ma alla fine avremo una condizione logistica un po' più confacente. Mentre in furia la protesta si fa strada negli opinioni dei cittadini supportate dal sindaco l'ipotesi di un trasferimento della sede del distretto Sita-Monteruscello presso Frattamaggiore che costituirebbe una priorità per la dirigenza dell'Asel. Il direttore generale chiarisce la questione ai nostri microfoni. Il problema della sede riguarda per l'appunto la sede legale la sede legale è sede amministrativa quindi fuori da questi contesti sono tutti i servizi sanitari che rimangono dove sono comunque anche per la sede legale noi abbiamo necessità di acquisire un provvedimento del Presidente della Regione che ci autorizzi a farlo provvedimento che ad oggi non c'è ancora. Intanto Figliolia ha fatto seguire all'acceso botta e risposta con Ferraro l'impegno a monitorare personalmente la condizione in cui verse il maggiore ospedale afferente all'Asel Napoli 2 Nord richiedendo anche l'intervento dei carabinieri certo però della totale abnegazione della grandissima professionalità dimostrata da medici e paramedici nel prestare assistenza ai pazienti in una situazione oltremodo precaria. Grazie Grazie Grazie